Si recusa massoneria e presunta loggia Ungheria accusa di calunnia, chiusa indagine su Amara e Calafiore. La Procura di Milano ha chiuso le indagine nei confronti di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni e autore dei verbali sulla presunta loggia Ungheria e del suo ex collaboratore Giuseppe Calafiore per calunnia continuata in concorso sulla presunta lista di appartenenti alla fantomatica loggia massonica di cui avrebbero fatto parte alcune decine di esponenti di rilievo delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell'ordine. Al momento dell'iscrizione dei fascicoli da parte dei PM di Milano Stefano Civardi e Monia Di Marco, le parti offese erano a 64. Con la chiusura di alcune posizioni sono state stralciate per diffamazione, altre sono state trasmesse per competenza territoriale ad altre procure. Tra i 20 fascicoli alcuni iscritti sulla base di denunce altri d'ufficio risultano ad esempio come vittima di calunnia l'ex ministro della giustizia avvocato Paola Severino, l'ex sottosegretario della giustizia Cosimo Ferri, l'allora comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana, l'ex vicepresidente del CSM Michele Vietti, l'ex consigliere del CSM Sebastiano Ardita e il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo.